Inizia ufficialmente il campionato di Serie B e la Virtus Club Ragusa fa l'esordio tra le mure amiche del Palapadua. Dall'altra parte del campo c'è il Bologna Basket 2016 di Coccio Rota. Entrambe le squadre si affacciano al terzo campionato nazionale con la voglia di far bene e di dimostrare fin da subito il proprio valore. I primi punti dicono Bologna per mano di Felice, a cui risponde prontamente il capitano Andrea Sorrentino, a cui Dan Manforte e Stefanini che realizza in post basso. Gli ospiti però pressano in aria eblea e cercano a tutti i costi di bucare l'aria avversaria, riuscendoci grazie al capitano Fontecchio. Entrambe le squadre mettono il piede sull'acceleratore e si corre da una parte all'altra senza risparmiarsi, mantenendo un equilibrio sotto le plance. Solo nell'ultimo minuto della prima frazione di gioco, grazie a Kitzing e i ragusani, riescono a chiudere con tre punti di scarto. Anche nel secondo quarto le squadre si rincorrono in cerca di punti preziosi. Soviero si rende protagonista di azioni importanti sotto le plance, cercando di trascinare i suoi, ma la Virtus Club Ragusa non sta a guardare e con un'azione di forza di Jurata e Sorrentino tengono i propri sempre avanti di qualche lunghezza. Anche gli anelli e chesseri danno Manforte alla squadra, riuscendo a penetrare in aria ospite e finalizzando senza troppi intoppi. Conti, insieme a Beretta, fanno girare palla velocemente, trovando il ferro agilmente. I bolognesi cominciano a tallonare i padroni di casa, che però cercano di rispingere ogni azione offensiva non senza difficoltà. L'ultimo quarto si gioca a ritmi serratissimi. Nessuna delle due compagini di gioco vuole sfigurare. Jurato, dopo un'azione ben costruita da fuori aria, mette dentro tre punti che valgono nuovamente il pareggio, 70-70. Soviero però ha una marcia in più e riesce a penetrare nell'aria eblea portando avanti la propria squadra. I nervi si fanno più tesi e i falli cominciano a fioccare. Si sprecano azioni potenzialmente utili da entrambe le parti. Il gioco si fa sempre più serrato e le due fazioni si tallonano punto su punto. Il tabellone è fermo sempre su una situazione di parità, quando mancano tre minuti alla fine dell'incontro. In questi ultimi momenti è scontro diretto tra Mastroianni e Soviero, che a suon di canestri cercano di portare avanti i compagni. Soltanto negli ultimi secondi bolognesi vanno avanti e con una tripla di conti si decreta la fine del match con il risultato finale di 87-96 per gli ospiti. Devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi a cercare e hanno mantenuto l'energia per tutta la partita. E soprattutto nella parte finale l'attenzione è stata sul piano partita e è quello che conta. E' anche ovvio dall'altra parte che prendere 87 punti non ce lo possiamo permettere, perché oggi abbiamo fatto canestro, ci siamo cercati. Ripeto, sono stati molto bravi i ragazzi, ma dobbiamo sicuramente migliorare difensivamente perché non possiamo permetterci di prendere così tanti canestri. Però ovviamente siamo contenti. Abbiamo visto un Soviero immenso, un Conti immenso. Insomma, giocatori che fanno la differenza? Allora, sì, deve ancora lavorare tanto, ma oggi ha fatto una buona partita, anche se nei minuti finali poteva gestire meglio qualche pallone, ma è il progetto, il programma sulla sua crescita. Quindi adesso lo accettiamo e speriamo di non avere altre situazioni finali in questo modo. Però veramente bravi tutti, dal primo all'ultimo. Ma c'è molto dispiacere, ci troviamo tantissimo a vincere la prima in casa dopo tanti anni in Serie B, però il campionato è ancora lungo, è la prima partita di campionato, quindi avremo tempo per rifarci, aggiustare quello che c'è ancora da aggiustare. Si possono trovare, insomma, 3.000 scusanti e basta. La mia prestazione, sì, buona, ma fino a se stessa, non alla vittoria purtroppo, quindi cercheremo di rifarci. Sono stati loro più lucidi, sicuramente alla fine a commettere meno errori, perché poi sono stati dettagli che hanno fatto la differenza. Noi in difesa abbiamo fatto forse qualche errore di troppo, in attacco più lucidi, secondo me, meno in difesa. Abbiamo subito un bel po' di triple che hanno creato il divario tra noi e loro e hanno permesso Bologna di andare avanti e prendere quei 3-4 punti di vantaggio che poi non siamo riusciti più a recuperare. Quindi dovremmo stare più attenti, secondo me, soprattutto in fase difensiva. Ma il tempo per lavorare c'è. Per fortuna ancora è la prima di campionato, quindi il tempo c'è. Questa squadra dal 25 ottobre non ha mai fatto un impegno di campionato. Eravamo in un momento importante di crescita e oggi si è visto chiaramente che ci manca l'abitudine alla partita in tante piccole cose. Siamo una squadra che è fatta in un certo modo con determinate caratteristiche. A volte abbiamo fatto bene, a volte abbiamo fatto benissimo, altre volte siamo di meno nelle piccole cose. Bisogna lavorare, lo sapevamo. Abbiamo provato in tutte queste 11 settimane a dare un'identità, un ritmo, qualcosa che potesse dare alle squadre una consapevolezza che oggi per alcuni momenti è venuta meno. Però sono ragazzi che si impegnano, che si allenano, che sono importanti perché hanno una ragosanità che sicuramente ci deve permettere di subito a partire da domenica a Crema di poter incominciare il nostro cammino vincendo anche se è una partita difficile in quel di Crema. Bisogna essere sereni, merito a Bologna che ha fatto una partita con andamento costante per tutti i 40 minuti e questo le ha permesso di poter vincere. Però credo che non abbiamo deluso, i ragazzi hanno dato il massimo di quello che potevano fare e questa è una cosa molto importante.